Ciao a tutti, oggi vi spiego un piccolo mix fatto di quattro trick in particolare. Il primo è l'ala 180 all'indietro, faccio come il passo d'ala quando vado all'indietro 180, non fino 180 e così via. Il secondo trick è semplicemente questo qui, l'occhio sul piede solo, però girando ogni volta cambio la dimensione, il terzo trick invece è tacco punta, col cambio, vedete mi piego, spingo, piego, spingo, piego, spingo, posso usare il terretto per girarmi e spingere, e quindi vado a fare il mix. Grazie.